Il ristoratore è contento e io c'ho una ricevutina alla faccia del renditore. Mi hanno detto che quelle le tasse mi vogliono portare via i soldi e le pecco. L'irazzo prende 300.000 euro, li mette dentro al tricchico di gomma, lo gonfia e lo porta a me. E adesso tu questa tricchiccheria? Noi vediamo fiamme gialle. Lo sapeva, la finanza. Era meglio la malattia. Dottore, come lei dona la bellezza alle donne? Io dono l'invisibilità ai capitali. Oggi ho conosciuto una ragazza a mezza brasiliana. Mezza? Sì. Qui stiamo preparando un blitz. Roba che in confronto lo sbarco di Alzio diventa una di uno dei gommoni e tu mi parli di mezza brasiliana. Che figlio di puttana. Ma ti sistemo io adesso, maresciato? E io pago! Io non pago più e se mi chiedi lo scontrino fiscale Io te faccio male Tappi in da Mi porti in altre due cose modificate? E io pago!